E vabbè, comunque c'è una nota positiva anche nella tristezza di dover eventualmente finire l'esperienza qui. Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la casa del grande fratello è... Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la casa del grande fratello è che il VIP che deve abbandonare la casa del grande fratello è... Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la casa del grande fratello è che il VIP che deve abbandonare la casa del grande fratello è... Il pubblico mi ha aiutato tantissimo e sono felice di tornare a casa e di ritrovare tutte le mie cose. E io devo dirti grazie perché abbiamo conosciuto, grazie a questo programma, Vilma Goic, un mito della canzone italiana, ma abbiamo conosciuto Vilma che vale, lasciami dire, cento volte di più della già grandissima cantante e artista che sei tu. Grazie a tutti. Grazie a tutti.